Una vittoria in rimonta che vale oro per il Francavilla che prosegue nella lunga scalata che regala tre giornate dalla fine un posto nei playoff, designando la squadra di Paolo Rachini come una vera e propria ammina vagante di un eventuale appendice alla fine della regular season. E dire che davanti c'era un Sant'Arcangelo in palla che giocava in casa e che al 56esimo era sul doppio vantaggio prima del tris giallorosso. La prima emozione della partita equivale anche al vantaggio di casa, al quinto spacca in uscita a terra De Cerchio, a munizione per il portiere ospite e calcio di punizione che Falomi trasforma piazzando sul palo coperto dalla barriera. La risposta è il Francavilla arriva al quarto d'ora con un gran tiro a giro di Bellanca dal limite dell'area ma la palla si stampa sulla traversa. La gara che si innervosisce e il gioco si fa spezzettato. Al trentunesimo Paulumbo scarica per Banegas, fendente al volo che Ragone respinge. Prova a ripartire il Sant'Arcangelo ma è attento il Villa ad impedire che tutto ciò accada. Al quarantesimo Ragone ancora provvidenziale, questa volta su Palumbo con una respinta di piede, su un fendente del capitano giallorosso. E l'ultima emozione della prima forzione di gioco. Nella ripresa Dossanto si è subito pericaloso dopo 50 secondi, stop di petto e tiro al volo che sfiora la traversa. Ma il Sant'Arcangelo trova la forza di raddoppiare all'undicesimo. Sugli sviluppi di un corner infatti svetta Falomi e di testa insacca l'angolino. Pronta però la risposta del Villa. E al cinquantottesimo la squadra di Rachini accorcia le distanze. Assist di Mancini arriva alla corrente Banegas che al volo piazza sotto la traversa. Preve il piede sull'acceleratore la squadra ospite ma né Dossantos né Banegas riescono a pareggiare i conti con due conclusioni della distanza ravvicinata. All'ottantaquattresimo Mancini sfiora il palo dal limite dell'area di rigore. Quando tutto sembra finito gli abruzzesi ribalta il risultato. Minuto 88 Dossantos fa da sponda a Mancini, tiro al volo e parità ristabilita. Passa un minuto e arriva il gol della vittoria. Palumbo semina il panico in area di rigore e salta tutti e piazza sotto le gambe di Ragone. Finisce dunque 3 a 2 per il Villa ed è un risultato che permette ai giallorossi di raggiungere la quinta piazza a quota 55 punti. L'ultima che garantisce l'accesso ai playoff staccando il notaresco e sorpassando la San Giustese. Adesso per la banda Rachini l'impegno prepasquale di giovedì al Valle Anzuca alle fattezze della Jesina che ormai sembra aver poco altro da chiedere a questo campionato. Parola Rachini, vittoria sul finale di tempo, due gol, alla fine l'arrembaggio ha portato i suoi frutti. Sì, è stata una partita particolare nel senso che siamo andati subito sotto dopo tre minuti su questo rilancio lungo, una lettura anche fatta bene dal mio difensore però purtroppo c'è stato quel malinteso con il portiere, abbiamo subito gol e niente. Poi secondo me è stata una partita dove la mia squadra io penso che abbia creato 15 palle gol. Sembrava una partita stregata, poi inizio secondo tempo è arrivato il 2 a 0 sul calcio d'angolo e da lì sembrava una partita chiusa però devo dire che c'è stata una reazione veramente importante della mia squadra, si è messa lì, ha fatto gol 2 a 1 e ci ha creduto fino al 97esimo e giustamente secondo me ha vinto. È stata, possiamo dire, una grande prova di carattere perché questo Francavilla come ne stavi dicendo ha provato tante volte e non ci riusciva però invece ci ha creduto fino alla fine, segno che questa squadra ha carattere e voglia di stare nei playoff. Sicuramente, lo ha dimostrato oggi perché comunque sul 2 a 1 dopo tutte quelle occasioni comunque succedeva sempre qualcosina lì davanti alla porta che la palla non entrava sembrava quasi stregata però poi siamo stati bravi, abbiamo fatto il 2 pari non sono il 2 pari, non siamo accontentati e siamo andati alla ricerca anche del terzo gol che secondo me giustamente abbiamo fatto e ci ha portato a questa vittoria importante.